T'hanno tolto la fascia da capitano, virgola, hai fatto un macello, è successo de tutto, hai litigato con la tua squadra del cuore, hanno acquistato un altro numero 9, gli hanno dato il tuo numero 9 e tu stai ancora là. Io sinceramente sta cosa non la capisco, adesso ne vorrei parlare con voi, parliamo anche del messaggio social di Juan Jesus, dell'invito, dell'indizio del mercato, chi lo sa, bella a tutti da me il Gabon, non è uno sfogo su Antonio Cazzaro, sto senza maglietta perché fa un caldo di quelli pazzeschi, sì la poltrona è del Latina, non è dell'Inter, e ho il ventilatore acceso, quindi scusate se sentite un po' dei rumori strani, un po' dei smucinamenti vari, non so io che sto mettendo mani in cose strane, ovviamente parliamo di Mauro Riccardi, parliamo della situazione che sta attraversando il giocatore, ma io non capisco perché ancora stai all'Inter, io fossi in te dopo tutto quello che è successo, la prima cosa che farei sarebbe quella di cercarmi un'altra destinazione, qualunque essa sia, non deve più essere l'Inter perché qualcosa si è rotto, sono uscite un po' dei giorni fa qualche indiscrezione, non so se è vera, prima si parlava di una litigata grandissima che fece lo scorso anno con Spalletti, motivo per cui gli venne tolta la fascia da capitano, lui si impuntò e si rifiutò della convocazione, non gioca e poi partì tutto il casino, l'anno scorso si diceva questo, comunque fino a un paio di mesi fa, pochi giorni fa è uscita sin indiscrezione, secondo cui la Juve lo avrebbe contattato e l'Inter sarebbe rimasta infastidita a tal punto che avrebbe deciso di togliergli la fascia da capitano, perché Riccardi a quanto pare stava provando ad accordarsi con la, sono indiscrezioni, non lo so, però io vi riporto quello che ho sentito, fatto sta che si è rotto il rapporto che c'hai con l'Inter, continui a far muro contro muro, continui a vivere da separato in casa, questi sono andati a fare una tournée, non possono toglierti la possibilità di allenarti con te, quindi se lo stai prendendo come un segnale eventualmente dell'avvicinamento, a mio parere non è così, hanno fatto delle dichiarazioni pubbliche, hanno fatto svalutare il tuo prezzo, il costo del tuo cartellino pur di togliersi te dai coglioni, non ci stanno riuscendo, lo sto dicendo non perché penso che tu sia una pippa, ma perché penso che dovresti guardarti intorno e cominciare a pensare al tuo futuro da calciatore, perché tu rischi seriamente la prossima stagione di vivere da separato in casa con l'Inter e di non strusciare neanche la tribuna, ma per la tua carriera futura, secondo te questo può essere un segnale incoraggiante barra positivo, rischi di rovinarti la carriera, se tu pensi che l'Inter ci possa ripensare all'Antonio Cazzaro, a mio modo di vedere non ci hai capito niente, all'Inter è arrivato Marotta, Marotta è una persona che su ste cose non passa minimamente sopra, poi fa come te pare, alla Juventus lo hanno dimostrato, certi giocatori, certi comportamenti non li hanno tollerati, li hanno sbolognati, quindi secondo me non c'è modo di recuperare, quindi torniamo, facciamo un passo indietro, il Napoli ti avrebbe offerto un contratto anche abbastanza importante, lo hai rifiutato, alla fine il Napoli fa la Champions, non so come la fa l'Inter, la Juventus mi pare che fosse interessata a te, ma se finora non si è mossa, evidentemente tutto sto interesse non ce l'ha, ha provato a prendere Lukaku, quindi evidentemente c'ha altre alternative, caratterialmente non li convinci, la Roma ha provato a sondare il terreno per uno scambio con Edin Dzeko, che alla fine metterebbe, diciamo, pace in tutto il mondo, perlomeno quello romanista e interista, perché? Perché noi perdiamo un attaccante, ne guadagniamo un altro, magari possiamo anche fare uno sconticino all'Inter su Edin Dzeko, finora prendiamo 20 milioni, magari a 10 glielo lasciamo e diamo all'Inter un conguaio economico, scusatemi, per prenderti niente, vabbè. La Roma fa l'Europa League, c'è posta alto, un ragionamento, dici non voglio abbassare il livello, ma a sto punto vai al Napoli, ma a sto punto prendi in considerazione qualche proposta estera, non riesco a parlare oggi, fa troppo callo, evidentemente proposte all'estero non ci sono, si parlava di Real Madrid ma poi hanno preso Jovic, quindi poi è successo quello che è successo, tutto al più secondo me all'estero sono anche molto più rigidi e rigorosi sui comportamenti fuori dal campo e secondo me non ti cercano per quel motivo, quindi ti sono rimaste poche alternative, o resti all'Inter e te rovini la carriera, oppure accetti Napoli, Roma o eventualmente se si rifà avanti la Juventus, questo è quanto, ma la Juventus ti sta a far aspettare, ti hanno detto mi pare di aspettare un altro po' dei giorni, ma rischi, secondo me rischi vera, ma vieni da noi cazzo no, Juan Jesus te l'ha detto, ti ha detto vieni da noi dai ti aspettiamo, Lu forza Lupi, sono finiti i tempi cupi, se vieni tu finiscono i tempi cupi, magari poi rimane pure Dzeko, facciamo una bella coppia d'attacco a due, Dzeko Icardi 37 gol, tu e 34 hai in Dzeko, chi lo sa, ovviamente sto scherzando, secondo me se arriva Icardi ovviamente Dzeko se ne va all'Inter, ma vorrei sapere da voi che cosa ne pensate nei commenti, rischi, lo ripeto per l'ultima volta, rischi seriamente di rovinarti la carriera, non ne vale la pena, chiudi sto capitolo, morto un papa se ne fa un altro, se tua moglie ti incorre, no non mi sto riferendo a tua moglie nella realtà dei fatti, diciamo in senso metaforico, se l'Inter, non è che l'Inter t'ha messo le corne, forse gli hai messo le corne, se il matrimonio non sa più da fare, si interrompe, cerca di un'altra moglie, ce ne stanno tante, porca miseria, fatemi sapere voi che cosa ne pensate nei commenti, io alla Roma lo accoglierei senza troppi problemi, però corsenote poi te devi comportare bene, te devi comportare bene perché se non c'ha assolutamente senso, cioè voglio dire, noi abbiamo già tanti problemi, l'anno scorso non siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo della Champions League, magari te facciamo firma qualche postilla in cui si dice che se te comporti male, ti decurtiamo lo stipendio del 99%, in modo tale che ci pensi due volte a ricomportar te così, poi non lo so se è colpa di tua moglie, queste sono cose su cui non voglio entrare perché non le so, probabilmente tua moglie è un minimo diciamo che ha infuocato la situazione secondo me, c'ha un bel caratterino, una bellissima donna ma c'ha un caratterino un po' particolare secondo me, giustamente quando si parla dei soldi o che, quando si parla d'affari ovviamente tutti fanno la voce grossa, però bisogna sempre rispettare tutti qua, vabbè, fatemi sapere il vostro parere nei commenti, alla prossima con un nuovo video dove andrà Icardi secondo voi e a sto punto se resta all'Inter secondo me sono cazzi per tutti, ciao!